Sporco Sconveniente Irritante Incazzato Magari qualche risato Ma senza peli sulla lingua Se per quella che è in testa Apparire è più importante di essere Ormai siamo tutti star, influencers, mentre a pensè Siamo talmente compresi in questo ruolo che dobbiamo sempre dire la nostra su qualunque argomento crogiolandoci nell'idea di avere spostato gli equilibri Quindi se per caso ci vacciniamo mettiamo la foto Tagghiamo tutti con il posto il cerotto il tipo di vaccino il selfie con dottori e infermiere e le facciamo anche ai nostri figli per sentirci migliori più civili e convinti di convincere così chi non lo vuole fare Il confine tra ciò che rendiamo pubblico e il nostro privato non esiste più siamo tutti in vetrina a caccia di consensi per sentirci qualcosa di più o qualcuno che in realtà non siamo più probabilmente per dire agli altri che siamo qualcosa più di loro fosse anche più stronzi il fatto è che rispondiamo continuamente alla domanda più furba degli ultimi 50 anni a cosa stai pensando? la risposta a questa domanda è in grado di farci scrivere pubblicamente cose che non diciamo ai nostri più intimi amici ai nostri compagni ai nostri mariti alle nostre mogli ma che riusciamo chissà per quale cazzo di motivo a dire a tutto il mondo dolori incazzature amori teorie scientifiche complotti tutto prende inesorabilmente vita in quello spazio sui casi di cronaca poi ci scateniamo ecco io a questo punto però una cosa la voglio dire ve lo ricordate l'assessore leghista di Novara? quello che ha sparato il ragazzo di colore che non ci stava proprio con la testa? quello lì i colpi di pistola non partono mai accidentalmente è una roba da film è una roba da commedia la pistola che cade e spara per sparare devi disarmare la sicura premere il ghiletto e prendere la mira non è mai la pistola a sparare piuttosto il pistola che la tiene in mano qui l'unico colpo che è partito per sbaglio è quello del padre del suddetto pistola chiusa parentesi oido e vaffanculo ma torniamo al nostro social racco esci da questo social ad intervalli pressa poco regolari piangiamo un maestro cantante regista attore e parte la gara a chi è il ricordo più bello peccato che quando erano in vita non li abbiamo mai considerati perché se davvero seguissimo gli insegnamenti di alcuni di loro il mondo sarebbe un posto migliore quando morirò fate un favore fatevi i cazzi vostri esserci ma mi si nota di più se vengo e sto in disparte o se non vengo per niente il fatto è che ormai non ti si nota neppure se ti infili un criceto su per il culo vivo facebook è un pollaio dove ogni tanto qualcuno tira un raudo per vedere l'effetto che fa alle volte il raudo lo tiriamo noi e alle volte reagiamo come le galline starnazzando resta la costante dell'essere polli in un pollaio alle volte scrivo qualcosa che penso che nessuno noterà e invece succede il contrario qualche insulto qualcuno che rimane deluso dalle mie parole e che improvvisamente mi detesta anche come comico qualcuno che mi dice che sono allineato a chi poi qualcuno che mi tira le orecchie perché non si fa qualcuno che attacca me e chi si schiera con me dipingendoci come una sorta di Manson Family ma che rompicoglioni ma se non vi va di leggere non leggete ci sono un sacco di miei colleghi che scrivono solo le cose che vi volete sentir dire io i social li uso male quando scrivi sui social dovresti aumentare i tuoi like i miei diminuiscono probabilmente perché non me ne frega un bene amato cazzo perché non siete veri su facebook siete quasi 17 mila cioè se foste veri io per prima cosa vi chiederei un euro a testa quindi visto che l'euro non saprei come farmelo dare e vaffanculo almeno mi tolgo la soddisfazione di scrivere quel cazzo che mi pare sì ma allora perché non chiudi tutto lo faccio per voi come fareste poi a sentirvi superiori e poi quando mi sfogo commentate con le frasi fatte io odio le frasi fatte se la vita ti dà i limoni facci la limonata se la vita ti dà i limoni te li infili su per il culo uno per uno e soprattutto non rompi il cazzo a me perché di là c'è una quintalata e non so che cazzo farci non ti curar di lor ma guarda e passa io guardo e soprattutto non passo siediti sulla riva del fiume e aspetta io mi ci sono seduto sulla riva del fiume e ho aspettato mi avevate detto che avrei visto passare tutti i cadaveri di quelli che mi hanno fatto del male tutti quelli che mi avevano sfruttato per il proprio tornaconto tutti quelli per i quali mi sono fatto in quattro e adesso neanche mi salutano tutti quelli che mi chiamano fratello come Caino ad Abele e così è stato sono passati tutti vivi su uno yacht questa settimana forse dovrei parlare di lavoratori di diritti del lavoro di morti di lavoro l'unica cosa che mi viene in mente è una triste constatazione ormai gli unici operai che sventolano una bandiera rossa sono quelli di autostrade che ti annunciano un restringimento di carreggiata ci sono giorni pochi nei quali sto bene altri nei quali sto malissimo e poi la maggior parte quelli nei quali vorrei rifondare la Manson Family ogni tanto da qui esco per andare a dire cose su un palco sarò a Torino il 29 al teatro Q77 non vi resta che venire mettete un like condividete e iscrivetevi al canale sporco a Torino a Torino a Torino a Torino